Ciao a tutti, bentornati sull'antimeta, siamo il Lorenz e il Krober e oggi siamo qui con, come vedete, una nuova postazione a fare l'unboxing del mazzo Commander dell'Universe Beyond di Dr. Who e qual è questo? Time Winnie, col dottore nono, decimo e undicesimo, con i dottori allora, unboxing che è stato reso possibile grazie a Fantasia Store dal quale abbiamo preso i quattro mazzi quindi passate in descrizione che c'è il link per dare un'occhiata e vi ricordo anche lo sconto Anticinque per supportare il canale in più, sempre per supportarci, iscrivetevi al canale per vedere tanti unboxing, le partite, nuovi mazzi Commander e lasciate un bel mi piace al video e un commento insomma fateci sapere tutto cosa ne pensate? allora, mazzi Commander dell'Universe Beyond di Dr. Who che ci avete detto, informatevi come si pronuncia noi lo chiamiamo Dr. V come il paninaro più famoso di Mantua ma detto questo, noi sapete che siamo una schiappa con l'inglese se ci sbagliamo con le pronuncia ragazzi perdonateci, sapete che siamo delle schiappe allora, come sempre contenuto mazzo carta straccia segnapunti grutto esattamente poi abbiamo però il portamazzo questo qui di cartoncino invece carino, valido perché ha lo spazio per tenerci anche le carte con i copricarte appunto con le sleeves poi abbiamo ecco qua abbiamo la bustina sample pack collector visto che anche di Dr. V c'è il collector booster e qui abbiamo i piani oh bello nuovi piani da giocare adesso andiamo a vedere se si possono unire alla nostra collezione di piani o se sono cose tanto tematiche allora deluxe foundation library i giocatori non hanno un limite di carte nelle loro mani ogni volta una creatura che controlli fa danno a un giocatore puoi pescare una carta e quando rolli caos metti un shadow counter su una creatura bersaglio una creatura con un shadow può bloccare o essere bloccata solo da creature con segnalini shadow quindi da paura paura ombra ombra mi sembra più ombra sì fear era paura like silenzio pianeta terra still point in time tutte le magie hanno slipped second uh bella questa è battibaleno esatto quando una magia con battibaleno è in pila i giocatori non possono lanciare o attivare le abilità che non siano abilità di mana bello e quando si innesca il caos like silenzio fa 6 danni a una creatura bersaglio contratta un avversario se una creatura che è stato inflitto danni in questo modo muore esigiala ottimo bello amy's home pianeta terra quando planeswalki in amy's home all'inizio del tuo mantenimento puoi esiliare una carta non terra dalla tua mano con un numero di segnalini tempo su di essa pari al suo costo di mana e se non ha sospendere prende sospendere buono e quando si innesca il caos fai time travel ovvero per ogni carta sospesa che possiedi in esilio e ogni permanente che controlli con un segnalino tempo su di esso puoi aggiungere o rimuovere un segnalino da esso quindi quando fai time walk time travel scusate aggiungi o metti un segnalo tempo su tutte le tue cose che ce ne hanno già uno odd sphere song of the odd le magie non creatura che controlli hanno convok buono quindi puoi tappare creature per attingere mana o in colore o mana del colore di quella creatura per lanciare queste magie non creatura col caos red eye ogni volta il caos si instaura per ogni ogni volta dico uno molto diverso per ogni avversario strema fino a una creatura che quel giocatore controlla fino alla fine del turno quelle creature non possono essere tappate a meno che non siano dichiarate attaccanti quindi non possono fregare il segnalino dello spronare human time lord metacrisis fenomeno questo quando si insta o quando incontri human time lord metacrisis ogni giocatore sceglie uno o due creature che controlla o il giocatore crea un token che è una copia della prima creatura che sceglie tranne che non è leggendaria poi un giocatore che ha scelto una seconda creatura mette un più uno più uno mette un numero di segnalini più uno più uno su di essa pari alla forza della seconda creatura che ha scelto buono bad wolf bay sempre pianeta terra all'inizio del combattimento del tuo turno esilia fino a una creatura a bersaglio effettuare quella creatura no return it on the battlefield ok si la effettuare sul campo di battaglia all'inizio del prossimo end step e quando si instaura il caos le carte non possono entrare nel campo di battaglia dall'esilio in questo turno e poi cambi piano buono ok sono parecchi cavolo sono tanti davvero tantissimi sono tanti sono dieci mi sembra un due tre quattro cinque sei dieci dieci piani però sono quaranta quindi c'è già in sostanza c'è il mazzo dei piani fatto solo con questi mazzi commander appalussia to stream facility ogni volta please walk questo piano questo sì questo piano e all'inizio del tuo first upkeep e tutto il primo mantenimento della partita ho il giocatore sceglie green another o red no grid anchor scusate grid anchor o red waterfall anchor non so cosa sia waterfall è cascata ho un giocatore che che ha scelto u last che per ultimo ha scelto green anchor may play in additional land during each turn ok le creature raccontate dal giocatore che ha scelto per ultimo waterfall prendono più due più zero hanno rapidità quando si instaura il caos ogni giocatore che ha scelto per ultimo green anchor sceglie red waterfall e viceversa questo non l'ho non l'ho capito non era tanto non l'abbiamo anche un po' complicato vabbè prime minister prime minister cabinet room pianeta terra l'inizio del combattimento del tuo turno fino a una creatura a bersaglio che controlli diventa una copia di una creatura a bersaglio controllata da un avversario buono volontà del concilio quando si innesca il caos partendo da te ogni giocatore vota per una creatura che non controlla esiglia ogni creatura con il maggior numero di voti o il minor numero di voti no scusate o il maggior numero di voti a parità di merito ok quindi se ce ne sono due o più a parità scegli te quale esigliare new new york all'inizio del combattimento nel tuo turno fino alla fine del turno non creatura artifacts gli artefatti non creatura che controlla diventano veicoli tra i train aggiunta ai loro altri tipi hanno volare rapidità e manovrare a uno buono quando si instaura il caos crea un token tesoro e un token alieno 2-2 alieno bellissimo bello pompei c'è anche pompei uuuuh siamo a tema allora quando planeswalk tu pompei all'inizio della tua keep metti un segnalino eruzione su di essa ogni volta rolli blank quindi rolli col dado planare niente il nulla profetizza 2 poi metti un segnalino eruzione su pompei quando rolla il caos pompei fa danno pari no fa danno tutte le creature giocatori parla il numero di segnali di eruzione su pompei fantastico un giocatore sacrifica una terra e poi planeswalk questi sono i 10 piani che la maggior parte vanno bene secondo me in qualsiasi partita a parte quello delle carte esiliate che magari non ci sta molto bene quello con sleep second ci sta qual era quello delle carte esiliate che è molto a tema dottor U gli altri vanno benissimo per essere giocati in tutte le partite commander vediamo che questo video sarà un po' a causa di questi piani sarà molto molto sostanzioso sì molto lungo allora andiamo a vedere cosa esce da questa collector booster attenzione allora questo qui è il tokenino mettiamo fuoco ok tokenino joe grant costa 3 3 2 ogni carta storica nella tua mano ha cicla a 3 ogni volta cicli una carta metti un più uno più uno su joe grant doctor's companion doctor's companion dobbiamo andarci a vedere che cos'è magari sta in zona di comando insieme al dottore creeping tar pit allora entra tappata aggiunge blu o nero tappando 3 diventa un elementale blu e nero tra 2 che fino alla fine del turno non può essere bloccato in questo turno beh ottimo bella questa questa è bella dobbiamo andarci a rivedere doctor's companion secondo me però nel mazzo visto che non sarà una carta col bordo alternativo ci sarà qualche doctor's companion con scritto che cosa fanno allora andiamo a vedere il decimo dottore il commander principale di questo mazzo costa 5 di cui un blu e un rossa un 3-5 facciamo così ragazzi io le sotto abilità perché non siamo non siamo pratici del dottor U per evitare errori nella pronuncia che so che ai fan danno molto fastidio leggeremo solo gli effetti facciamo questo compromesso allora una ricolta attacchi esiglia carta dalla cima del tuo grimorio fino a che non esiglia una carta non terra metti 3 segnalini tempo su di essa se non ha sospendere prende sospendere top mi piace un voto questa abilità whenever you attack quindi non questa creatura quando tu entri in combat in sostanza e poi tappa 7 time travel 3 volte attiva solo come una stregoneria time travel abbiamo detto come prima che per ogni segnalino sospendere su una carta che possiedi o su un permanente che controlli metti o rimuovi un segnalino tempo da esso e fallo in totale 3 volte questo effetto quindi è per singola sì sì tu hai 3 carte time travel 3 time vuol dire che lo fai su una carta singola no no tu per ogni carta dice se è time travel 1 e hai 5 carte sospese gli togli 5 a tutte un segnalino time travel 3 volte gliene togli 3 time travel in questo caso è bello è figo secondo me perché ci sarà sicuramente anche negli altri mazzi quindi te li togli alle tue e li aggiungi a quelli degli altri questa abilità qua è stra bella questa è bella secondo me tireremo le conclusioni alla fine degli unboxing ma secondo me fare delle partite commander tutte a tema dottor sarà molto belle rose tyler costa 2 è un 2-2 questo è dottor prende più 1 più 1 per ogni segnalino tempo su di essa ok poi quando attacca metti un segnalino tempo su di essa forage per ogni carta sospesa che possiedi e per ogni permanente che controlli con un segnalino tempo doctor's companion puoi avere due commander se l'altro è il dottore ok quindi in sostanza questo qui è il dottore è un tipo doctor quindi lei può essere il compagno del dottore puoi avere due comandanti quindi la signorina joe potrebbe sostituire rose tyler in questa e probabilmente sarà in questo mazzo visto che penso sia uno dei pochi col bianco poi i due comandanti qui questo giro hanno fatto tutto in un pacchetto unico cosa apprezzata qui c'è il comandante in cartoncino qui abbiamo i token di vario tipo che oh bello l'alieno pafutello sembra un marshmallow copia bella qui abbiamo tante copie gli alieni dinosauri volanti ok token promossi adesso andiamo torniamo al nostro mazzo siamo già a 12 minuti cerchiamo di di sbrigarci attraxi warden costa 6 6-6 alieno occhio volare quando entra nel campo di battaglia esiglia fino a una creatura tappata a un bersaglio e a sospendere a 5 ovvero lo tappi a 2 e lo esigli con 5 segnalini tempo esatto buono poi wibbly wobbly time wimmy costa 2 stregoneria time travel pesca una carta non andremo a spiegare tutte le volte time travel perché ormai l'abbiamo capito bene time beatly costa 2 è 1-1-1 skulk questa creatura non può essere bloccata la creatura con forza maggiore ottimo buono ogni colvolta time battle death combat fare danno a combattimento a un giocatore fai time travel buono balena stellare costa 8 8-8 volante cautela le altre creature che controlli hanno egida egida 2 come ci hanno fatto notare sospendere a 6 tappa 2 buono sibil line shoot shoot seier speriamo di aver noto giusto costa 3 3-2 quando questa carta entra nel campo di battaglia rivela carte dalla cima del tuo grimorio ho messo abbastanza fuoco che così forse è meglio dalla cima del tuo grimorio fino a che non riveli una carta non terra con costo di mana 3 o maggiore esilia quella carta con 3 segni di tempo su di essa se non la sospendere prende sospendere per il resto del no metti il resto in fondo del tuo grimorio in ordine grandomico judo non enforcer costa 7-8 8-8 travolgere non più di una creatura può attaccarti in ogni combattimento sospendere 6 e costa 3 bello psychic paper costa 2 es ah beh perché è un equipaggiamento giusto equipaggiare a 2 quando diventa quando lo attacchi a una creatura scegli un nome di una carta creatura e un tipo di creatura la creatura equipaggiata egida 1 e non può essere bloccata and its name and creature type are the last agli cambi il nome e il tipo in sostanza a una creatura non ho ancora capito l'utilità non ho ancora capito l'utilità di cambiare nome a una tua creatura poi lo capiremo leggendo pian pianino le altre carte probabilmente tardis costa 2 2-4 volante ogni volta il tardis attacca e se controlli un time lord quindi i time lord abbiamo visto sono i dottori mettiamo lì un attimo fuoco time lord nel tipo se controlli un time lord la prossima magia che casti in questo turno a cascata e you may planes walk e poi se stiamo giocando con i piani puoi cambiare piano quindi bello perché il tardis ci hanno spiegato quel poco che ci siamo informati che è la cabina dove il dottore entra e viaggia nel tempo è la sua astronave quindi cambia tempo pianeti era quindi ha anche senso che cambi il piano e a manovrare a 2 quindi ci sta un sacco sonic stappa un altro artefatto bersaglio tappa 2 e lui profetizza 1 tappa 3 e lui una creatura non può essere bloccata in questo turno qui abbiamo l'arcane signet versione dottore soul ring versione dottore alieno perché c'è l'occhio alieno clock spinning costa 1 buyback 3 e puoi pagare un costo dizionale di 3 quando lanci questa magia se lo fai metti questa carta nella tua mano quando si risolve bello buyback torna indietro scegli un counter su un permanente o una carta sospesa muovine uno e o mettine un altro ok fai praticamente time walk su solo una carta questa è una ristampa vecchia mi sembra perché ce l'ho questa carta qua vecchia può essere può essere è straforte il tog vessel anche questo qui un master dei mazzi commander la mind stone bellissima con la testa scassata talisman of creativity talismano un'ottima ristampa che ci piace lightning graves ci stanno un sacco l'altro talismano sono stracarini che i talismani sono pezzi di abbigliamento dei dottori questa cosa mi piace un sacco anche se non ho ancora visto il dottor who evolving wilds le nostre fetch preferite non possono mancare mai wilfred mott costa 4 2 4 all'inizio del tuo upkeep metti un segnalino tempo su wilfred e guarda le prime x carte del tuo grimorio dove x il numero di segnalini tempo su wilfred puoi mettere un permanente non terra con costo di mana 3 o meno tra di essi sul campo di battaglia metti il resto in fondo in ordine casuale buono everybody lives costa 2 istantaneo tutte le creature prendono exproof e indistruttibile fino alla fine del turno i giocatori prendono exproof fino alla fine del turno i giocatori non possono perdere vite in questo turno i giocatori non possono perdere la partita o vincere la partita in questo turno allora signore io non lo so ma secondo me questa qui è una carta degna di protezione di ceferi secondo me questa carta prenderà un botto di valore nel tempo perché mi sembra una cosa troppo sgrava costo 2 istante costo 2 secondo me questa sarà una carta di quelle super everything come to dust costa 10 di cui tra bianchi a convoc esiglia tutte le creature tranne quelli che condividono un tipo di creatura con le creature che hanno convocato questa magia poi esiglia anche tutti gli artefatti e tutti gli incantesimi quindi buonanotte al secchio fai una bella piazza pulita selettiva 4 nox quindi 4 nox nocche penso ma non lo so costa 3 incantesimo vanishing 4 questo incantesimo entra nel campo di battaglia con 4 segnalini tempo su di esso all'inizio del tuo mantenimento rimuove un segnino tempo da esso quando l'ultimo è rimosso sacrificalo all'inizio della tua mind phase pre combattimento pesca una carta questa carta è tanta roba in un mazzo così dove fai time travel e lì continui a mettere i segnalini non lo sacrifichi più depandorica costa 3 artefatto leggendario puoi scegliere di non stappare depandorica durante il tuo fase di stapp tappa 2 e lei stappa un altro permanente non terra bersaglio poi fa phase out quindi scompare it can't phase in non può ricomparire fino a che depandorica rimane tappata quando depandorica rimane si stappa o lascia il campo di battaglia permanente ricompare fai solo come stregoneria ottimo the wedding of river song costa 3 stregoneria pesca 2 carte poi puoi esiliare una carta non terra della tua mano con un numero di time counter su di essa pari al suo costo di mana puoi un avversario fa lo stesso le carte esiliate in questo modo che non hanno sospendere per non sospendere fai time travel ci sta adipos offspring questi sono i nostri alienini quelli carini di prima marshmallow costa 4 2 2 emerge 6 puoi lanciare questa magia vai sacrificando una creatura e pagando il suo emerge costo ridotto del mana della creatura sacrificata ok quindi ha senso costerebbe un po' di più ma lo sconti sacrificandone una quando entrano nel campo di battaglia crea un alieno 2 2 token se la diposa offering emerge se è stato pagato il suo costo di emergere crea x di quelle creature dove x è la costituzione della creatura quindi si sta ne crei parecchi ne crei parecchi astrid pet costa 2 o 2 2 ogni volta astrid entra nel campo di battaglia o attacca crea un food token e poi ogni qualvolta sacrifichi un indizio o un cibo astrid esplora ci sta come cosa che venga presa da una meccanica come esplorare che viene da x land ed è un po' che non si vede crack in time costa 4 incantesimo vanishing 3 quindi sempre con i tre segnalini tempo che li rimuovi quando non le ha la sacrifichi quando entra e all'inizio della tua fase pre combat main phase esilia una creatura controllata da un avversario fino a che il cracking time non lascia il campo di battaglia anche questa qui tanta roba tutto bene mi viene da pensare a vanishing 3 con l'incantesimo quello di al delà di rean l'incantesimo aura ovvero il bruttissimo che ti ha trovato ah si quella bruttissima acida roba acida che mamma cara the girl is in the fireplace una bella saga costa 3 allora primo step crea un nobile umano 1-1 con vanishing 3 e previeni tutto il danno che gli verrebbe inflitto a questa creatura col 2 crei un cavallo 2-2 che ha i dottori che controlli hanno horsemanship e non possono essere bloccati tranne che da creature con horsemanship ogni codice una creatura che controlli fai danno da combattimento a un giocatore in questo turno fai time travel quindi bella per rendere ancora più elusivi i nostri dottori poi abbiamo la signora la signorina Martha Jones costa 3 è un 2-3 quando Martha Jones entra nel campo di battaglia fai un indizio quando sacrifichi un indizio Martha e fino a un'altra creatura bersaglio non possono essere bloccati in questo turno è una compagna del dottore quindi però in questo caso non possiamo metterla come commander perché dobbiamo tirar via tutto il bianco quindi servirà per fare compagni dei dottori alternativi nanogen conversation costa 4 stragoneria scegli una creatura che controlli ogni altra creatura diventa una coppia di quella creatura fino alla fine del turno tranne che non è leggendaria bello questa qui carta molto molesta con possibilità infinite di fare cose molto ma molto brutte flash duplicate costa 2 blu è uno 0-0 puoi fare in modo che flash duplicate entra nel campo di battaglia come la coppia di un'altra creatura sul campo di battaglia tranne che ha vanishing 3 se quella creatura non ha vanishing ci sta ha senso the levent hour all'undicesima ora un'altra saga costa 4 un po' poco fuoco scusate miglioreremo cerca nel tuo grimorio una carta dottore rivelala mettila nella tua mano e rimescola crea un cibo token e un umano 1-1 con i dottori che lanci costano 1 in meno per essere lanciati bella crea un token che è una coppia di una creatura bersaglio tranne che è un alieno leggendario chiamato prisoner 0 ok alieno leggendario all of history all at once costa 4 stragoneria fight and travel e poi storm bello lo copi per ogni magia che hai lanciato prima in questo turno beh costa 4 quindi è già tantino spell cast before quindi non solo quelle che lanci te tutte le magie lanciate in questo turno sorcery si però se gli altri fanno delle cose si si è più difficile però donna nobel costa 4 soulbound io mi pare questo creatore con un altro un pare creatore quando il rinforzo il battlefield allora puoi pairarla puoi pairarla significa render era una meccanica che c'era vista anche tempo fa una cosa simile puoi accoppiarla nel senso la abbinare la abbini la abbini a un'altra e fino a che le due creature rimangono abbinate no quelle creature rimangono abbinate fino a che le controlli entrambe ogni volta che una creatura entra se questa quella non è abbinata puoi abbinarla a questa in sostanza era una meccanica abbastanza vecchia no c'era in qualche carta dell'espansione commander di qualche set tipo midnight hunt o promessa cremisi non mi ricordo perché mi sembra una meccanica vecchia non mi ricordo solo che non era tanto carina vediamo qua come va avanti quando donna o un'altra creatura o una creatura è pairata con no quando donna o una creatura abbinata con donna fa danno da combattimento donna fa danno fa altrettanto danno a un avversario bersaglio che giri di parole in sostanza tu la abbini a un'altra creatura quando l'altra fa danno anche donna infligge danno a quell'avversario a un avversario bersaglio puoi scegliere sempre lo stesso o un altro esatto danno pari al danno che ha fatto quindi tu la abbini a un 8-8 l'8-8 fa 8 danni a un giocatore tu puoi spararne 8 o allo stesso o a un altro giocatore ed è una compagna del dottore quindi sempre per fare cose complicate e strane comunque siamo riusciti a riassumerla abbiamo fatto traduzione spiegazione tutto fatta male ma ce l'abbiamo fatta Amy Pond costa 3-2-2 partner con Rory Williams quindi quando questa entra puoi cercare Rory Williams dal mazzo mettetevi in mano rimescolarlo quando Amy Pond fa denodo a commettimento a un giocatore scegli una carta sospesa in tuo possesso e rimuovi da essa altrettanti segnalini tempo e anche lei è una compagna del signor dottore Ecstasic Beauty costa 3 esilia le prime tre carte del tuo gremorio puoi giocare quelle carte fino alla fine del turno metti 4 segnalini tempo su ogni carta put 4 time counters on each of those cars metti 4 segnalini tempo su ogni carta che a sospendere tu le esigli quelle che hanno il sospendere hanno anche i segnalini tempo e non le perdi bella e a sospendere 4 pagando un rosso buona buona RMS Titanic perfetto costa 4-7-1 volare travolgere quando l'RMS Titanic fa danno da comattimento a un giocatore sacrificalo e crea altrettanti tesoro manovrare 3-7-1 quell'1 di costituzione si è la fragilità del Titanic fantastico poi abbiamo croward e killer costa 2 croward stregoneria una creatura a bersaglio non può essere bloccata in questo turno e diventa un coward in aggiunta ai suoi altri tipi fino alla fine del turno fa i time travel mentre killer costa 4 e fa 3 danni a una creatura a bersaglio ogni altra creatura che condivide con esso un tipo bella una frattina selettiva parting of the ways costa 6 una saga che al primo passo quando entra esiglia le prime 5 carte del tuo gremorio per ogni carta non terra esigliata in questo modo metti un numero di segni di tempo su di essa pari al al suo costo di mana se lo vanno a sospendere prendono a sospendere fai time travel e un'altra fai due time travel in sostanza al secondo step per ogni avversario distruggi fino a un avversario bersaglio che quel giocatore controlla bad wolf cioè insomma carta bella fa un po' di tutto finalmente abbiamo il nono dottore ok 2-4 rapidità anche questo è blu-rosso blu-rosso non puoi fare altri abbinamenti non puoi fare abbinamenti diversi ma secondo me ci ne sarà si serve sempre quella lì bianca questo mazzo abbia detto che ha il nono il decimo e l'undicesimo speriamo che l'undicesimo abbia altri due colori secondo me l'undicesimo è bianco rosso speriamo così puoi mettere un altro partner 2-4 rapidità into the tardis ogni qualvolta il nono dottore diventa bloccato viene bloccato durante no untapped ah scusa diventa stappato durante il tuo unstapp puoi mettere un segnalino un additional a keep step you get an additional a keep ah fai un mantenimento aggiuntivo quindi tutte le abilità che triggerano al mantenimento stappo mantengo pesco quindi tu stappi mantieni mantieni un'altra volta e poi peschi mantieni un'altra volta si peschi fai gli effetti del mantenimento li fai due volte esatto fai due volte gli effetti al tuo mantenimento vabbè carino anzi potente perché è poderoso fare se è un mazzo pensato apposta se li sparro 2-3 costa 4 puoi lanciare le creature come se avessero flash lampo monicolta uno o più altre creature che controlli lasciano il campo di battaglia investiga quindi fai un indizio questa abilità triggera solo una volta per turno peccato buono buono dai jenny generated anomaly costa 4 questo è un time lord soldier quindi time lord si ha degli effetti come ti ho detto bianco rosso quindi questo qui è un dottore può essere un comandante può essere un comandante con abbinato quello blu che c'era prima esatto perché diceva che deve essere un dottore no scusi è un dottore non time lord ah cavolo non è un dottore questo non può essere il comandante perché non può esserlo abbinato perché si non è un dottore è un time lord ma non è un dottore 2-3 double strike doppio attacco quando jenny fa dato a combattimento a un giocatore esplora buono rory williams costa 2 stavo leggendo robin williams robin williams bianco blu tra 3 partner con emmy pond quello che abbiamo visto prima attacco improvviso e lifelink quando lanci questa magia da una qualsiasi zona tranne che l'esilio esiliala con 3 segni di tempo su di essa e prende e sospendere poi fai un indizio buono l'elevent doctor questo è un altro dottore questo è l'undicesimo blu bianco quindi puoi usare un altro compagno rosso se c'è un compagno rosso cioè in questo mazzo adesso andremo a vedere no fino ad adesso era blu mi sa uno bianco uno blu vabbè comunque no forse era solo uno blu quello bianco era nella bustina quello bianco era nella bustina ne abbiamo tratti due dello stesso colore vabbè ogni qualvolta l'undicesimo dottore fanno da combattimento un giocatore può esiliare una carta della tua mano con un numero di segni di tempo su di essa pari al soccosto di mana se non sospendere prende e sospendere tappa 2 una creatura con forza 3 o meno non può essere bloccata in questo turno ottimo perché i dottori di solito non hanno 3 o meno eccolo qua un doctor rosso bianco come ti avevo detto ten lord doctor the war doctor il dottore della guerra 3 o 5 ogni qualvolta uno o più permanenti altri permanenti scompaiono e ogni qualvolta uno o più carte sono messe in esilio da una qualsiasi zona metti un segnino tempo sul the war doctor ogni qualvolta il war doctor attacca fa danno pari al numero di segnalini tempo su di esso a un qualsiasi bersaglio se una creatura ha acquistato flitto danno in questo modo muore in questo turno invece la esigli quindi tanta roba tanta roba questi mazzi sembrano molto molto sinergici quindi sarà bello giocarli il primo il primo che guardiamo si il primo ma io mi aspetto che venio male in teoria se sono stati bravi saranno sulla stessa linea regeneration restored costa un bianco un blu incantesimo vanishing 12 quindi ciao davvero ogni volta uno o più segni di tempo sono rimossi dalla regeneration restored profetizza uno e guadagna una vita vabbè ci sta poi se la regeneration restore non ha segni di tempo su di esso esiglala quando lo fai prendi un turno extra dopo di questo però ci sta allora che ne ha 12 questo qui in abdeladrian però cos'ha in abdeladrian e quando la esigli prendi un turno extra dopo di questo se la esigli fai il turno extra all'infinito che problema c'è magari la bandiscono subito ma no insomma anche se a meno che a meno che no a meno che non triggera solo se no probabilmente essendo tutto di seguito e non essendoci uno spazio when you do quando lo fai quindi non quando lo fai quando la esigli ma quando fai tutta la roba sopra probabilmente fai il turno extra sì c'è un punto eh però non c'è lo spazio mi sa che è sempre il continuo dell'effetto sono andati a capo perché non c'era spazio io credo ci sarebbe lo spazio vedremo vedi che c'è lo spazio tra i due effetti diversi no se no è troppo forte quando viene esiliata quando lascia il campo niente è troppo forte idris soul of the tardis costa 3 è un 3-3 vanish in 3 imprimere quando idris entra nel campo di battaglia esiglia un altro sotto il fatto che controlli fino a che idris non lascia il campo di battaglia ha tutte le abilità attivate e innescate della carta esiliata prende più x più x dove x è il il costo di mana della carta esiliata forte the face of the bow un bel alieno 0-4 costa 4 vediamo se mettiamo un po' meglio fuoco tappalo puoi lanciare una magia con un segnali no una magia con sospendere dalla tua mano se lo fai paga il suo costo di sospendere invece che il suo costo di mana attivalo solo come stregoneria fantastico eh questo è fortissimo sconta un casino eh si wow run for your life costa 2 istantaneo 1 o 2 creature bersaglio prendono rapidità fino a fine del turno non possono essere bloccate in questo turno tranne che da creature con rapidità e a escape quindi a fuga quindi tappando 4 mani ed esiliando altre 4 carte dal tuo cimitero puoi lanciarla appunto dal cimitero buona the day of the doctor saga costo 5 allora al passo 1 2 e 3 esiglia carte dalla cima del tuo grimorio fino a che non esigli una carta leggendaria puoi giocare quella carta fino a che the day of the doctor rimane sul campo di battaglia e metti il resto delle carte esiliate in fondo al tuo grimorio in ordine casuale buono quindi ti lanci creature leggendaria dal mazzo al quarto passo invece scegli fino a 3 dottori se lo puoi esiliare tutte le altre creature e se lo fai il giorno dei dottori fa 13 danni ti inflige 13 danni ok ci sta perché tu esili tutte le altre creature tranne i tuoi 3 dottori ti becchi 13 danni quindi ha senso perché il senso di cercarsi 3 carte leggendaria di setacciare il mazzo per avere 3 dottori e quando lo fai è giusto che ti becchi una bella punizione perché l'effetto è forte gillifrey falls costa 6 e è un istantaneo fa 4 danni a ogni creatura se una creatura a cui viene inflitto danni in questo modo in questo turno muore esigiala e poi no more costa 3 istantaneo per a un qualsiasi numero di creature bersaglio che controlli scompaiono ha affiuso quindi puoi lanciarne una se paghi il costo totale tra le due puoi lanciarle entrambe in contemporanea buono buono perché tu puoi far sfasare le tue e far 4 danni a tutte quindi tanta roba poi abbiamo dinosauri on of spaceship costa 6 7 7 cautela travolgere gli altri dinosauri che controlli prendono più uno più uno fino a fine e più uno più uno cautela e travolgere sospendere 4 pagandolo 5 ogni volta un segnalino tempo è rimosso da from dinosaurs on spaceship che è quando viene rimosso un segno tempo da questa carta quindi quando esiliata crea un dinosauro 2-2 bianco e rosso token con volare e rapidità quindi tanta roba perché mentre lo esigli ti fa lo stesso delle robine carine Kate steward costa 5 è un 3-3 ogni volta metti uno o più segnalini tempo su un permanente che controlli crea un soldato 1-1 però quando attacca puoi pagare 8 se lo fai le creature attaccanti prendono più x più x fino a fine natura dove x è il numero di segnalini tempo tra i permanenti che controlli però anche questo qui tanta roba buono rotating fireplace costa 3 entra tappato con un segnino tempo in colore pari al numero di segnini tempo su rotating fireplace tappando 4 e rotating fai time travel attivalo solo come stregoneria ottimo tanta roba un bel artefattino in questi mazzi the moment costa moment act costa 2 all'inizio del mantenimento metti un segnino tempo su the moment tappa 2 e il the moment stappa una creatura a bersaglio che controlli scompare in phase out scompare fino a che the moment lascia il campo di battaglia tappando 3 e lui distruggi ogni permanente non terra con costo di mana pari o uguali al numero di segnini tempo sul the moment poi sacrifica il the moment attivalo solo come una stregoneria fai sparire piano piano le tue cose te le salvi in sostanza te le salvi e poi track vediamo un po' di terre no solo una terra speciale una terra leggendaria tanto siamo un colossal tappa aggiungi blu metti un segnino tempo sul trenzalon clock tower tappa 3 scusate tappa 2 e questa terra rimuovi 12 segnalini tempo da questa carta ed esiglala mescola il tuo cimitero e la tua mano nel tuo grimorio poi pesca 7 carte attiva la soluzione controlli un time lord ci sta una bella terra però grasp of fate costa 3 quando entra per ogni avversario esiglia fino a un permanente non terra che quel giocatore controlla fino a che il grasp of fate non lascia il campo di battaglia ci sta farewell ristampa gradita super forte out of time costa 3 quando entra nel campo di battaglia stappa tutte le creature ogni qualvolta queste creature no poi queste creature sfasano scompaiono fino a che l'out of time non lascia il campo di battaglia metti un segno tempo sull'out of time per ogni creatura che è uscita in questo momento e ha vanishing quindi i segnalini sono messi in base alle creature che ha fatto scomparire questo è un'altra ristampa molto forte wedding ring questo qui mi sembra anche questo qui una ristampa di promessa cremisi se non mi sbaglio forse mi sbaglio costa 4 quando entra se non è stato lanciato un avversario avversario crea un token che ha una sua copia ogni qualvolta un avversario che controlla un artefatto chiamato wedding ring pesca una carta durante il suo turno tu peschi una carta ogni qualvolta un avversario che controlla un artefatto chiamato wedding ring guadagna vite durante il suo turno tu guadagni altrettante vite ci sta ci sta per fare alleanze malefiche come piace a noi poi inspiring refrain costa 6 pesca 2 carte esiglia gli inspiring refrain con 3 segnini di tempo su di esso oppure tappa 3 lo sospende 3 buono si buono buono come predetto come predetto signori costa 3 incantesimo all'inizio del tuo mantenimento metti un segnino tempo su come predetto era era mitica una volta era mitica era mitica però insomma ci sta che l'abbiano ristampata rara chi se ne frega carta forte tanto poi nel mazzo una volta per turno puoi pagare 0 invece che pagare il costo di mana di una magia che lanci con costo di mana x o meno dovesse il numero di segnini di tempo su come predetto quindi incantesimo fortissimo sempre fracture identity costa 5 esiglia un permanente non terra ogni giocatore other than diverso il suo controllore può creare un token che è una coppia di esso ci sta ci sta bello anche questo qui sempre malefico con i patti port town quando entra in campo di battaglia puoi rivelare una pianura o un'isola dalla tua mano se non lo fai entra tappata chiaro tempio del trionfo lo conosciamo fruttetto esotico anche questo qui terra classica tempio del enlightenment che non mi ricordo le praterie che questo qui entra intratappato che non controlli due o più terre base reggeted flame intratappato ma a ciclo 2 volendo se dobbiamo scartarcelo dalla mano due o più intratappato a meno che non controlli una pianura o un'isola questa questa è una filtro un altro tempio o meno delle epifanie frost boy tesnail questo qui ok se riveli isola montagna entra stappato tappa giungi in colore tappa 2 tappalo diventa la coppia di una terra bersaglio tranne che ha questa abilità ok e diventa per sempre la coppia di una terra buona entra a meno che non riveli tappata a meno che non riveli montagna o pianura war room tappa 3 lei pago a vita pari al numero di colori e nell'entità del tuo comandante pesca una carta sunback canyon tappa ah queste sono quelle di modern horizon tappa paga una vita aggiungi rosso o bianco oppure tappa e tappa tappa 1 tappala sacrificala pesca una carta entra tappata mancestria bello anche questo l'art tempo di affasulla paesaggio delle miriadi tingloof questa quando entra scegli un colore sono quelle di di una stable commander no di jumpstart quelle di jumpstart queste che entra e scegli questo è il trioma scarso il trioma scarso animus cemetery allora tappa 5 e tappalo esiglia l'animus cemetery una creatura bersaglio target creators ownership il giocatore il controllo di una creatura bersaglio la rimescola nel suo gremorio ok ci sta ha senso passaggio dei farabutti bello futuristico ci sta poi abbiamo qualche terra base ma non tantissime perché comunque ce ne sono parecchie di terre doppie diciamo che hanno messo un buon comparto terre diciamo non sono le terre migliori di questo mondo ma ce ne sono non sono quelle scarse cioè nel senso quelle scarse non sono delle tupland inutili sono terre che qualcosa fanno qualcuna è entrastappata a condizioni non troppo vantaggiore cioè non sono le migliori di questo mondo ma sicuramente sono a livello terre messo bene questo mazzo mazzo che al momento mi piace un sacco intanto il decimo dottore ha un effetto che è veramente bello da provare sicuramente però sembra anche molto sinergico come mazzo sembra sinergico sembra a me questo mazzo mi piace un sacco vediamo se gli altri sono mi piacerebbe tanto prendere a parte l'ho alzato giusto perfetto ma che roba è un mito volevo proprio questa carta cioè allora che roba sbusta bene e seleziona questa è un'abilità questo qui finisce negli annali ah beh certo comunque stavo pensando proprio di solo per questa carta smontare alla undo il veggente metterci questo togliendo quei colori e mettendoli i suoi perché sembra dannatamente fastidioso questo perché quando il mazzo di alla undo è pieno di artefattini o cose tra l'altro blu che lo aiutano a stapparsi più volte in un turno quindi a continuare a lanciare cose al costo di sospendere al posto del loro costo originale che il costo di sospendere di solito è neanche la metà è la cosa che ci serve mana senza il verde si fa fatica la forza di alla undo comunque dai concludiamo questo colossal che è stato un video lungo ma che ne è valsa la pena davvero abbiamo compensato i video che non abbiamo fatto in queste settimane direi che dall'antimeta è tutto al prossimo video